So bene che per non essere io letterato, che alcuno presuntuoso, mi parara generalmente potermi biasimare con la legare essere io uomo senza lettere. Gente stolta, ma non sanno quelli che io potrei rispondesi come Mario rispondesi i patrizi romani che le mie cose sono nate più dall'esperienza che dall'altrui parola. La quale esperienza fu maestra di chi bene scrisse. Ecco, dunque, primo luglio l'esperienza di Leonardo da Vinci sul palcoscenico della Finice. La sua vita, misteri, passioni, segreti. 67 domande, un'intervista impossibile, in lingua rinascimentale, con un trucco che restituisce il volto di Leonardo, con una danza dedicata all'uomo di Vitruvio che si trova a pochi passi da qui, con musica dal vivo, per risentire con le parole di Leonardo il suo pensiero, la sua poesia, la sua verità.